E scelodato Gesù Cristo. Credo che abbiamo fatto molto bene oggi a venire qui, avere anche questo coraggio e questa perseveranza, perché sappiamo che oggi, oltre al primo sabato del mese, è un sabato tutto particolare, dedicato alle anime dei defunti. E noi sappiamo quanto la Madonna ci ha indicato i mezzi per suffragare queste anime, le quali, lo ricordiamo, non possono pregare per se stesse. Possono pregare per noi, certo, ma non possono pregare per se stesse. Noi invece abbiamo tante possibilità per aiutare loro, per alleggerire la loro sofferenza e anche per abbreviare, se è nella volontà di Dio, la loro sofferenza perché possano entrare presto nel Regno dei Beati, nel quello che noi chiamiamo il Paradiso. E sappiamo che questi mezzi sono, prima di tutto, la Santa Messa, offerta per i defunti, le messe e i cicli di messe gregoriane, soprattutto per quelle anime che magari erano un po' più lontane dalla grazia. Sappiamo che abbiamo il Santo Rosario, offerto per loro. Abbiamo le varie indulgenze che la Chiesa ci mette a disposizione, tra cui quella di oggi che dura fino a mezzanotte. Abbiamo le opere di carità fraterna che possiamo offrire per loro. E abbiamo la Via Crucis, questa Via Crucis che possiamo dire è stata benedetta in maniera particolare da Maria perché come ogni volta quando iniziamo la Via Crucis si viene ricordato giustamente quel messaggio che dice vi prometto che ogni volta che percorrerete con devozione la Via Crucis, con devozione la Via Crucis, voi libererete molte anime dal purgatorio e avrete da loro aiuto e preghiera. Ma che cosa è venuta a fare qui in fondo la Madonna? È venuta proprio per insegnarci come si va in Paradiso. È venuta ad insegnarci come si va in Paradiso possibilmente anche senza purgatorio o con poco purgatorio. Ci ha insegnato però che per arrivare là bisogna vivere in un certo modo qua, su questa terra, su questo nostro breve pellegrinaggio terreno perché anche se campiamo cent'anni di fronte all'eternità è breve, un pellegrinaggio breve. E allora ci possano aiutare queste parole che la Madonna ha pronunciato il primo novembre del 1993, qui, su questo Monte di Cristo. La Regina dell'Amore quella sera diceva «Benediciamo e glorifichiamo il Padre. Figli miei, oggi vi unisco con la vostra preghiera all'esultanza dei santi e dei martiri che hanno lottato e sofferto invocando il sorgere di un'era nuova fatta di amore. Figli cari, scompariranno presto filosofie dell'ateismo, persecutori di Dio e culti demoniaci. È vicino un tempo nuovo instaurato nell'amore di Dio per la felicità di tutti i Suoi figli. Anche voi siete chiamati a collaborare difendendo la verità. Sto attendendo ancora la conversione di molti figli. chiamate tutti alla preghiera e alla penitenza. Vi benedico tutti e vi stringo a me». Mi soffermo su queste parole, in queste parole mi soffermo su due punti in maniera particolare. Il primo. Vi unisco all'esultanza dei santi e dei martiri che hanno lottato e sofferto invocando il sorgere di un'era nuova. È interessante questa frase, lottato e sofferto. Se abbiamo l'idea che i santi siano persone semplicemente che hanno pregato, che hanno curato le loro ascesi, che sono stati in clausura a grattarsi la pancia, scusate il termine, abbiamo un'idea sbagliata dei santi, molto sbagliata. Perché tutti i santi, e non parliamo dei martiri, hanno lottato e sofferto. non hanno soltanto pregato, hanno soprattutto lottato e sofferto per invocare il sorgere di un'era nuova fatta di amore. Un'era nuova di amore che non hanno nemmeno visto, fra l'altro, ma per cui hanno lottato ugualmente, pregato e lottato e sofferto, sofferto per quella verità. Allora è chiaro, la Madonna qui ci sta dicendo una cosa molto chiara. Volete arrivare al Regno di Dio? Volete arrivare al Paradiso? Volete arrivarci il più presto possibile? Anche voi, io vi chiamo a lottare e a soffrire per il sorgere di un'era nuova fatta di amore. E a tal proposito, permettetemi di approfondire un attimino queste parole della Madonna con altre parole, sempre del cielo, di Gesù in maniera particolare, che ci aiutano a capire ulteriormente questo discorso. A proposito del lottare, ad esempio, Gesù disse un giorno, «Chi non lotta non può essere premiato né in questa vita né nell'altra». Sono parole abbastanza chiare. «Chi non lotta non può essere premiato né in questa vita e tanto meno nell'altra». Ma cosa vuol dire lotta? Non vuol dire lotta armata, non vuol dire rivoluzione, non vuol dire chissà che cosa, vuol dire lotta contro il peccato, lotta contro il male, che è in noi prima di tutto, perché uno che non lotta col peccato che è in sé è un cristiano fallito, non può aspirare al Paradiso, e lotta contro il male che è intorno a noi, che è nel sociale, dal dove viviamo. Anche se siamo in pochi, anche se siamo minoranza, abbiamo dalla nostra parte Dio, abbiamo la Vergine Maria dalla nostra parte. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi, dice San Paolo, anche se siamo numericamente pochi. E a proposito di lotta ancora, Gesù ci fa capire un'altra cosa. Tutto ora, tutto, va verso il difficile. In ogni nazione persecuzioni e calamità progrediscono, ed è questo il tempo propizio per il cristiano. Non la bonaccia, ma la tempesta è il tempo del cristiano. Certo sono parole che sembrano un po' contraddittorie, ma come? Nostro Signore che è venuto a portare la pace, nostro Signore che è venuto a portare il... andate d'accordo tutti, nostro Signore che è venuto a dire per carità, vogliatevi bene, fate del vostro meglio, eccetera. Oggi in fondo si predica molto così. E invece Gesù dice no, il tempo del cristiano non è la bonaccia. Non è quando tutto va bene. Cosa è successo in Italia? Cosa è successo in Europa grazie alla bonaccia? È successo che i cristiani sono addormentati completamente. È successo che hanno cominciato ad abbandonare le chiese. È successo che non pregano più. È successo che hanno sostituito Dio con tanti altri idoli a partire dalla televisione e tutto il resto. È successo che oggi, di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo, nemmeno si accorgono di niente. E anzi, non accorgendosi di niente, addirittura lasciano andare agli altri e dicono beh, se qualcuno vuole cambiare le cose si arrangi. Io sto bene così. Ecco, questi sono i cristiani oggi. Molti, non tutti per carità. Questi sono i cristiani. Il tempo invece della tempesta è il tempo in cui tu sei chiamato a scegliere. È il tempo in cui sei chiamato a prendere posizione. È il tempo in cui sei chiamato a fare scudo, a difendere la verità. Questo è il tempo del cristiano. Invocare il Vangelo, continua Gesù, per coprire scelte rinunciatarie di lotta e accettare fatalisticamente situazioni di fatto è una tragica illusione. Sono parole del Signore. Chi vuole andare in Paradiso e invoca il Vangelo per dire no, bisogna andare d'accordo con tutti, bisogna abbattere i muri, bisogna che andiamo, che non creiamo conflitti con nessuno, non bisogna essere divisivi, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà è una tragica illusione. Non si può salvare in questo modo. Perché? Perché si invoca il Vangelo per nascondersi. Si invoca il Vangelo per non lottare. Lottare intendo dire nel senso che ho detto prima, contro il peccato, contro il male, per difendere la verità, sia chiaro. Allora, no, no, il mondo è così oggi. Accetto fatalisticamente. Il mondo è fatto così. Bisogna andarci dietro. E credo che tanti oggi ragionano così. Li sentiamo anche noi, tanti che oggi ragionano così. Ma queste parole ci fanno cambiare idea. Invocare il Vangelo per coprire scelte rinunciatarie. Io non scendo in campo. Accettare fatalisticamente situazioni di fatto. Il mondo va così. Bisogna andarci dietro. È una tragica illusione. Ecco che cosa significa lottare dunque. Lottare secondo il Vangelo. Lottare come hanno fatto i santi e i martiri che oggi sono nella gloria del Paradiso. E a proposito di soffrire. Lottare e soffrire. Soffrire perché? Non soffrire perché dobbiamo essere colpiti necessariamente da chissà quali malattie. Ma dobbiamo soffrire a causa del nome di Cristo. Come hanno fatto tutti i santi e tutti i martiri. I quali, attenzione, perché anche con i martiri noi abbiamo un'idea molte volte un po' romantica. Sembra che i martiri siano stati quelli che hanno subito le sofferenze. Hanno subito la morte. No, i martiri non hanno subito proprio niente. I martiri hanno affrontato la morte. Hanno affrontato il martirio. E con delle sofferenze e con delle torture di quelle piuttosto pesanti. Hanno affrontato e sapevano amare anche in quel momento lì. Tutto è grazia di Dio. Certamente. Tutto è grazia di Dio. Una grazia che però loro hanno chiesto. Una grazia per cui si sono preparati. Le sofferenze indicibili di San Lorenzo, ad esempio. Cotto in una graticola, no? E a un certo punto dice la storia. Dice da questa parte sono cotto, adesso giratemi pure dall'altra parte. E viene girato dall'altra parte. Messo in una, come si dice, fatto ai ferri, insomma. Quindi voglio dire, sofferenze tremende, tremende. Eppure, anche Sant'Ignazio di Antiochia. Vado a farmi mangiare dai leoni per diventare puro pane di Cristo. Non ha subito. Ha affrontato la morte. Perché anche Cristo Gesù ha affrontato la croce per amore nostro. Ecco, fratelli, allora non pretendete, dice Gesù, ancora lui. Soprattutto lui e solo lui. Non pretendete, traversate tranquille solamente perché siete dalla mia parte. Siamo con Cristo, quindi a noi va tutto bene. E guardate che non sono mica pochi, sapete oggi, che hanno ancora questa fede infantile. Se io credo, se io vado a messa, se io accendo la candelina davanti alla Madonna, a me va tutto bene, non può andarmi male niente perché io sono con il Signore. Non è fede questa. Questa è una fede clientelare. Io ti do e tu in cambio mi dai. Non è amore. Non pretendete, traversate tranquille, solamente perché siete dalla mia parte. È proprio il mio nome la ragione di tante ostilità contro di voi. E ne sa qualcosa anche Renato. È proprio il mio nome la causa di tante ostilità verso di voi. E forse lo sappiamo un po' tutti quanti che frequentiamo questi luoghi o perché andiamo in chiesa e magari ci andiamo ogni giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Io, dice Gesù, proclamo beati i perseguitati per la giustizia. L'abbiamo sentito ieri nel Vangelo. Proclamo beati i perseguitati per la giustizia. E anche qui, fratelli, molte volte intendiamo la giustizia come la giustizia terrena, la giustizia di questo mondo, che poi giustizia non c'è. Bisognerebbe capire dov'è la giustizia di questo mondo. No, la giustizia di cui parla Gesù è essere giusti davanti a Dio. Questa è la giustizia. Quindi io proclamo beati i perseguitati perché vogliono che tutto sia giusto secondo Dio, che tutto l'ordinamento umano sia secondo Dio. Questi sono i perseguitati per la giustizia. E metto il cristiano di traverso agli avvenimenti, per far sgambetto al male, per creare una soluzione che non è quella dell'utile immediato. Chi crede, chi veramente ama, non si aspetta risultati immediati, come tante volte abbiamo la tentazione di fare. I santi e i martiri che hanno lottato, come dice la Madonna, non hanno visto nessuna soluzione. Hanno lottato per un'era nuova, fatta di amore, ma non hanno visto niente. E fino ai giorni nostri non hanno visto nulla, eppure hanno lottato ugualmente, perché sanno che comunque l'ultima parola appartiene a Dio. Perché sanno che non siamo chiamati noi a far trionfare la verità, ma siamo chiamati a servirla, siamo chiamati a testimoniarla, e siamo chiamati anche a soffrire per essa, per la verità. Poi il Signore farà il resto. Ma chi ha lottato per il Signore, chi ha lottato per la difesa della fede, oggi più che mai, sicuramente riceverà il grande premio del Signore. Anche se non ha visto niente di risultati su questa terra, ugualmente riceverà, sia qui che di là, la consolazione che viene da Dio. E c'è un secondo punto anche di questo messaggio che mi colpisce, mi colpisce ma dà speranza. Fili cari, scompariranno presto filosofie dell'ateismo, persecutori di Dio, culti demoniaci. Ecco, sono parole forti, forse non colliamo subito il significato di queste parole, ma guardando la realtà forse siamo sollecitati a capirla molto meglio, la realtà. Ecco, ad esempio, prepariamoci, prepariamoci, Ad esempio, la settimana scorsa, la settimana appena passata, che sta passando, anzi scusate, in Commissione Giustizia della Camera, si è iniziata la discussione di una legge molto particolare, una legge interessantissima, una legge, leggo il titolo perché così capiamo meglio, contro gli atti di discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. E parole fumose, filosofiche appunto, filosofiche, parole rindondanti. Cosa vuol dire questa proposta di legge? Vuol dire che se questa proposta diventerà legge, questa legge prevede fino a sei anni di carcere, ripeto, sei anni di carcere, se tu pubblicamente dirai, ad esempio, che non è giusto dare un bambino in affidamento, in adozione a una coppia di omosessuali. Ti daranno anche sei anni di prigione, se dirai pubblicamente e sosterrai pubblicamente che non è giusto usare il farmaco che blocca la pubertà per i ragazzi perché decidano di che sesso sono. Ti metteranno in prigione, se dirai anche, se sosterrai pubblicamente anche, che uno non nasce, o meglio, che nasce maschio e femmina, e non che decide lui, che deve decidere lui di che genere è. Se dirai che un corpo maschile vuol dire che uno è maschio e che con un corpo femminile uno è femmina, rischierai la prigione. Perché? Perché il gender dice non è vero che è così, perché tu sei quello che ti senti di essere, ma se tu ti opporrai a questa ideologia che ormai sta facendo e sta crescendo sempre di più, rischi, ripeto, fino a sei anni di prigione. Se poi più semplicemente dirai che non è giusto insegnare il gender nelle scuole, lo sosterrai pubblicamente, a maggior ragione ti prendi o una multa salatissima o fino a sei anni di prigione. Ecco, questo stanno preparando i persecutori di Dio. Persecutori di Dio. È interessante perché anche proprio ieri o l'altro ieri è stata approvata una mozione sempre nel nostro Parlamento, voluta da una senatrice ebrea, la quale è riuscita ad ottenere che ci sia una mozione, che almeno adesso si discuterà, contro l'odio antisemitico. Non ci deve essere odio antisemitico, bisogna punire l'odio antisemitico, cioè quando si è contro gli ebrei. E siamo d'accordo, è giustissimo. Ma stranamente, quando si fanno queste leggi, non si parla mai dell'odio contro i cristiani, di questi cristiani che patiscono in silenzio, eccetera, eccetera. Non se ne parla mai di questo. Odio, no all'odio contro gli ebrei, non all'odio, non l'islamofobia, non l'odio contro gli animali, non questo, non quello, ma nei confronti dei cristiani mai, mai nessuno che ci possa pensare, mai nessuno che faccia una mozione per loro. E sono 300 milioni, non uno, 300 milioni i cristiani che vivono in zone dove c'è la persecuzione dei cristiani. 300 milioni di cristiani, non sono niente, 300 milioni che non hanno diritto neanche di una difesa, neanche di una parola. Eccoli i persecutori di Dio, eccole le filosofie dell'ateismo, senza contare quello che poi ormai è sulla bocca di tutti, purtroppo, purtroppo, sulla bocca di tutti. E abbiamo visto, anche in questa settimana, abbiamo sentito un sacerdote della diocese di Verona che nella sua parrocchia fa pregare la pacciamama. Cos'è sta pacciamama? È la dea, la madre terra, la madre terra amazzonica delle Ande, di quelle zone là, di cui hanno fatto un sinodo. E quel prete di Verona neanche colpevole del tutto a dire la verità, perché questa iniziativa da dove è partita? È partita dall'organismo della CEI, Missio, si chiama Missio perché si occupa delle missioni, è un organismo pastorale della CEI che ha detto a quei preti che desiderano, a quelli diocesi che desiderano, diffondete la preghiera a pacciamama e fate pregare le parrocchie perché preghino questa pacciamama per la madre terra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la domanda è ma dove stiamo arrivando? Sono quelli stessi, questi qua, che ti fanno pregare pacciamama, sono gli stessi che se chiedi di andare a benedire le case, che se chiedi di fare le erogazioni e tante cose del genere, ti dicono che sei superstizioso e ti ridono dietro perché dicono siamo mica più nel Medioevo oggi. Ma ti fanno pregare la pacciamama, ti fanno pregare un idolo che non ha niente a che fare con il cristianesimo. Come se non si ricordassero che il primo comandamento dice chiaro io sono il Signore tuo Dio, io, non avrai altri dei di fronte a me, non ti prostrerai addirittura, non ti prostrerai, dice il primo comandamento, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Che cosa abbiamo visto nelle fotografie? Nessuno può negare perché sono fotografie che hanno girato il mondo intero. Abbiamo visto religiosi, addirittura frati che si erano inginocchiati di fronte agli idoli amazzonici che sono stati portati in Vaticano, prostrati davanti a loro. Abbiamo visto vescovi che portavano in processione gli idoli e le statuine del Sinodo dell'Amazzonia, per il Sinodo dell'Amazzonia. Attenzione fratelli perché chi non conosce Cristo senza sua colpa non ha colpa se adora, se venera queste cose. Ma chi ha conosciuto Cristo sa bene, primo comandamento, catechismo della Chiesa Cattolica, che non ci si può prostrare davanti a queste cose. Addirittura Gesù nelle tentazioni nel deserto, la terza o la seconda o terza tentazione cosa dice? Quando Satana gli fa vedere tutti i regni della terra e gli dice se prostrato mi adorerai sono tutti i tuoi i regni della terra. E Gesù risponde in maniera chiara vattene Satana, sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto, a Lui solo rendi culto e nient'altro e a nessun altro. A Lui solo rendi culto. Basta e qui torniamo ai santi e ai martiri che non si sono piegati di fronte agli idoli di questo mondo. Basta leggere il secondo libro dei Maccabei avete presente la figura del vecchio Eleazzaro che per non mangiare carni proibite si fa uccidere. Avete presente quella madre che in un giorno solo vede morire sette figli. Perché? Perché non sono piegati ai dettami pagani dell'imperatore. Sette figli in un colpo solo. libro dei Maccabei Antico Testamento quindi già nell'Antico Testamento si moriva per non prostrarsi di fronte a dei stranieri e idoli pagani. Perché il cristiano sa che quando non si prostra davanti al vero Dio si prostra davanti a qualcun altro. che gli piaccia o no si prostra davanti a qualcun altro. Culti demoniaci. Ecco fratelli spariranno presto dice la Madonna è una speranza spariranno presto ma dobbiamo avere le idee chiare anche noi. Si tratta di una lotta sempre più impari perché chiaramente l'esercito del nemico è molto grande ma non dobbiamo aver paura. Chi se Dio è con noi chi sarà contro di noi? Ecco carissimi allora qui capiamo anche come si può fare per evitare il purgatorio perché oggi come oggi se vogliamo accorciare il purgatorio c'è soltanto una cosa da fare oltre che pregare sia chiaro oltre che far penitenza sia chiaro è lottare è lottare e soffrire per la verità lottare e soffrire per la verità non importa quanti siamo che cosa ha sofferto Renato in purgatorio nel 2001? Ha sofferto per tutto il bene in più che poteva fare non aveva fatto questa è stata la sofferenza che lui ha patito non sia mai fratelli che andremo davanti al Signore e ci dirà e capiremo perché lui non ci dirà nulla siamo noi che capiamo da soli di fronte a lui e ci sentiamo dire a causa del fatto che hai fatto scelte rinunciatarie che non ti sei che non hai lottato in te e fuori di te contro il male ti devi purificare devi fare un po' di purificazione in più stiamo attenti fratelli perché effettivamente penso che oggi come oggi in questa situazione di confusione totale che c'è nel mondo e purtroppo anche in buona parte della Chiesa c'è bisogno di persone che con umiltà e amore senza condannare nessuno perché il giudizio aspetta solo a Dio per chiunque sia lottano e soffrono sono disposti a lottare e a soffrire per la verità per il trionfo del cuore immacolato di Maria sia lodato Gesù Cristo e vogliamo allora concludere questa nostra via crucis con una preghiera rivolta come sempre facciamo in novembre alle anime per le anime del purgatorio O Gesù Redentore mio amabilissimo per il tuo sangue prezioso libera dal purgatorio te ne supplico le anime benedette dei miei morti tu che promettesti di esaudire ogni preghiera fa che oggi le anime di quanti mi hanno fatto del bene possano entrare in paradiso Gesù Pietusissimo abbi misericordia in modo particolare delle anime più abbandonate nelle sofferenze del purgatorio affretta a tutte le anime dei fedeli defunti il gaudio di contemplare il tuo volto nella luce eterna e voi anime sante che già siete in cielo pregate per me affinché nessun peccato mi separi mai dal mio Signore e la speranza dell'eternità beata ogni giorno di più animi e conforti la mia vita terrena tutto ti chiedo per Cristo nostro Signore l'eterno riposo dona loro Signore esplenda ad essi la luce perpetua riposini in pace ame l'eterno riposo dona loro Signore esplenda ad essi la luce perpetua riposini in pace ame Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio, non disprezzare le supplichi di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, contro la perfidia e l'ensidio del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere e tu, Principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno, Satana, e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Se lo dato e ringraziato in ogni momento, sia benedetta la santa ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, e per intercessione di Maria, Regina dell'amore, di San Giuseppe e di tutti i Santi, dei nostri angeli custodi e delle anime sante del Purgatorio, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella Tua intercessione, Noi affidiamo a Te le nostre anime, accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a Te, a Te, Regina dell'amore. Scello dato Gesù Cristo! Sempre scello dato!